Pensai che questo obbligo vaccinale possa essere introdotto e le volevo anche chiedere se va verso una terza dose di vaccino come accade in altri paesi come Israele o la Germania? Grazie. Sì a entrambe le domande. Darei poi anche la parola al Ministro Speranza, ma è sì a entrambe le domande. Si arriverà all'obbligo vaccinale. Il pensiero di Mario Draghi è chiaro. È un premier lapidario quello che incontra la stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Il giorno dopo il voto della Lega contro il Green Pass in Commissione Affari Sociali che ha fatto esplodere nuova tensione in maggioranza. E il messaggio a Matteo Salvini è altrettanto limpido. Non solo il Green Pass resta, ma verrà esteso a più categorie. Il Ministro Speranza e Dio ne stiamo parlando, discutendo da un po' di tempo. Guardi, l'orientamento è sì, verrà esteso. Sulle modalità e le categorie sarà una cabina di regia ad esprimersi. La direzione è quella, sì. Dobbiamo decidere col Ministro Speranza tante cose, tra cui l'estensione del Green Pass. A chi non sé, ma a chi e quanto svelti. Sui mal di pancia del leader del Carroccio, altra risposta chiara. Il chiarimento politico lo fanno le forze politiche. Quindi, terzo, è chiaro che ha auspicabile una convergenza di una maggiore disciplina nelle deliberazioni politiche. Quarto, il governo va avanti. Insomma, fa capire Draghi, il piano del governo ha ormai il suo percorso tracciato e difficilmente si potrà tornare indietro. Tanto meno di fronte all'odio al Novax che Draghi stigmatizza solidarizzando con chi è nel mirino di minacce e attacchi. Devo anche esprimere la mia solidarietà piena a tutti coloro che sono oggetto di violenza da parte di odio, da parte dei cosiddetti Novax. Questa violenza è particolarmente, direi, odiosa, pigliacca, quando è fatta nei confronti di persone che fanno informazione e di persone che sono in prima linea a combattere la pandemia.